Ciao, ciao, prova, prova. Ciao! Sono felicissimo di essere qua ad Alghero, è un paese, un posto bellissimo, la Sardegna, veramente mi sono innamorato appena l'ho vista, quindi veramente complimenti ecco, anche per tutta l'accoglienza calorosa che mi state dando e che mi avete dato, quindi grazie di cuore a tutti. Sono ovviamente un po' emozionato, anch'io, siete tantissimi, fa molto piacere e per il resto, guardate, per venire qua ho dovuto faticare perché ho perso addirittura un volo, però tutto a posto, adesso l'abbiamo recuperato, sono qua come potete vedere, quindi a posto, quindi grazie di cuore intanto per questo. Allora ragazzi, facciamo una storia Instagram, che ne dite? Sì! Sì! Sulle mani! Allora, ragazzi, come vi avevo già annunciato nel video, che sicuramente avrete visto, sta per uscire un nuovo libro. Vi è piaciuto Game Over? Sì! Ragazzi, se state seduti e il più composti possibile è meglio, ok? Ragazzi, cerchiamo di stare un po' seduti perché poi si crea confusione, però grazie. Sta per uscire quindi un nuovo libro, si chiamerà, adesso vi svelo il nome, in anteprima non lo sa nessuno, saprete solo voi qua da Alguero, quindi primi legiati, ecco si chiamerà... Aspettate, mi sono scordato il nome, un secondo... Si chiamerà, si chiamerà, aspettate, se c'era Game Over, quale sarà il nome del prossimo libro? Play Game Over! No, 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 no! Allora, play again! Perché non è Game Over! Si ritorna! Quindi torneremo a giocare, il vostro game ritornerà, ho sempre voluto... Ci sarà qualcosa, comunque ci saranno tanti videogiochi che amate del mio canale, quindi quelli che amate di più... Aspettate, voglio farmi una domanda adesso io, qual è il vostro gioco preferito? Ditelo tutti assieme! Minecraft Arcore? Sì! Appunto! Oh, lo so quello che volete, lo so tutti! Questa è la domanda che mi viene fatta più in assoluto, dov'è Minecraft Arcore? Minecraft Arcore torna a settembre! Sì! E appena torna a casa, anche la Gabby Vanilla, mi piace anche la Gabby Vanilla? Sì! Perfetto! Oggi ci sarà anche una firma copia, quindi se volete avere la mia firma sul libro Game Over, che ovviamente per leggere Play Again, Game Over, non è dito necessario, però sarà più meglio, ecco, così capite un po' meglio la storia. Quindi abbiamo allestito poi tutto, vi spiegherà il mio collega, ecco, come fare. Per il resto, ragazzi, veramente, devo dire, la Sardegna è un posto bellissimo, io se potessi ci verrei a vivere. Bellissimo! E lo fai messo a tu, mentre la vostra vicino, la Gabby! Sta davvero, stupendo, stupendo! Ho tanti anche progetti adesso per il canale, sicuramente volete sapere qualcosa. Sapete a chi piace Hytale? Conoscete Hytale? Lazzate le mani! Chi lo conosce Hytale? Bravi esperti, ecco! No, che è Thanos! Thanos! Sì! E a Fortnite ti piace qua a Fortnite? Sì! Non conosco a Fortnite! Ok! Cosa? Eh, no, no, amicizia, guardate, una volta, dovete sapere, su Fortnite, mi sono arrivate così tante richieste, che il mio account si è bloccato e non ho potuto più giocarci. Non ero bloccato! Poi adesso non sono bloccato, non sai cosa ho subito. Ok, ok. Ragazzi, comunque, progetti futuri per il canale, appunto, portare altri giochi tipo Hytale, che sarà un Minecraft 2, quindi probabilmente arriverà quel gioco là, molto molto bello. Sicuramente nuove avventure, perché Minecraft è bellissimo, lo sappiamo, è un bellissimo gioco, cioè, tutti lo giochiamo, però qualcosa di nuovo e qualche esperienza nuova, perché anche Minecraft Arcore, mi dite tutti i capi, Minecraft Arcore, Minecraft Arcore, le mod non sono infinite, la mia fantasia cerca ogni volta di trovare nuove idee. Però con Hytale credo che potremmo fare anche una Minecraft Arcore, un Hytale Arcore, direi, quindi per quelli a cui piace questo tipo di serie, ci sarà qualcosa di nuovo. Poi, Kindergarten 2, lo finiremo, perché so che mi piace. Poi, potrei farvi anche qualche vocina nel palco, c'è chi vuole da nago? Crocchette, 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 crocchette. Il costume è di Nugget, dobbiamo sbloccarlo, prossimo episodio, lo sblocco. Qua ci hanno dato anche come sbloccarlo, ci hanno fatto un tutorial per come sbloccarlo, qua sono esperti, sanno più di me, questi ragazzini sanno tutto. Grazie mille, grazie mille, lo otterremo con cura, lo useremo come tutorial per i prossimi episodi. Mamma mia! Ormai sapete che... Gli SCP? Anche le SCP volete che la continui? Ok, dobbiamo continuare. Non la pare, c'è tanto la pare. L'SCP 096, no, c'ho paura, guarda di rivedermi. Comunque, adesso, quello che faremo adesso è intanto, tra un attimino mi appio lì, così possiamo dare l'opportunità a tutti di farmi qualche domanda, perché credo che qualcuno avrà qualche domanda, quindi se venite là, una foto, se riusciamo, una foto adesso vediamo, insomma ne faremo finché non viene bene la foto, ok? Vediamo insomma perché siete veramente tanti, adesso vediamo anche come è organizzata la cosa, però cercheremo di fare avere a tutti almeno la firma e quando venite là potete farmi una domanda, così la foto, in modo da avere un ricordo di tutto ciò.